L'Istituto Comprensivo Salvemini di Battipaglia con la dirigente scolastica Anna Maria Leone annuncia l'Open Day. Le date sono il prossimo 16 gennaio delle ore 9 alle ore 12 nel plesso di via Ravenna e le 17 stesso radio nel plesso di via Etruria Poliziano. Il titolo dell'evento è Scuola aperta in festa per le iscrizioni scolastiche all'anno 2018-2019. Nella due giorni di apertura per far conoscere l'Istituto Salvemini si svolgerà l'incontro con la dirigente scolastica Leone ed inoltre la presentazione dell'offerta formativa PTOF a cura dei docenti e degli alunni.